A una settimana esatta dal termine per la presentazione delle liste si aggiungono pezzi al mosaico dei partecipanti alle prossime elezioni comunali. Nelle scorse ore è stata annunciata la squadra del candidato sindaco di Noi per Garlasco Futura, Simone Molinari, alla guida di una lista civica in continuità con l'amministrazione uscente e appoggiata dai partiti del centrodestra. Non ne fa parte l'attuale sindaco Pietro Francesco Farina. Non ricandidabile dopo il secondo mandato era rimasto in bilico fino all'ultimo fra una partecipazione diretta alla competizione elettorale e un appoggio esterno a chi si propone per raccogliere la sua eredità. Nell'attuale giunta si ripresentano gli assessori Francesco Sant'Agostino e Isabella Panzarasa, oltre al consigliere delegato Riccardo Tosi. Noi per Garlasco Futura se la vedrà con Garlasco Civica con candidato sindaco Mario Spialtini. Ufficiale a Gropello Cairoli la rinuncia di Chiara Rocca alla corsa per un secondo mandato. La maggioranza ha annunciato che la candidata a sindaco sarà l'ex dipendente comunale Clara Valenti. A Gropello si annuncia una competizione molto serrata. Oltre a Clara Valenti sono già state annunciate le candidature di Elisa Bergamaschi per Gropello Riparte, appoggiata dal centrodestra, di Alessio Rudolf per Progetto Futuro e Antonio Beretta per Grande Nord. Intanto però c'è chi pensa già al 2022. È Forza Italia che ha annunciato la partenza del progetto Next per Gambolò dove si voterà il prossimo anno. L'iniziativa si svilupperà in una serie di eventi con l'obiettivo di costruire programma elettorale insieme ai cittadini. Grazie a tutti.